Ma la colazione chi la paga? Ma cosa mi sono persa? Ma la colazione da mocca che cos'è? Ciao, colazione da mocca è un evento di formazione, di aggiornamento, di confronto, di scambio di idee Gratuito, molto informale, che succede negli uffici di mocca e che è verticale ogni volta su una tematica Questa volta era la quinta edizione e abbiamo parlato di video Che cos'è mocca? Mocca è un'agenzia di marketing online che aiuta le aziende a trarre il massimo da internet E se volessi partecipare anch'io? Allora, quanti caffè? Tre Aspetta, cosa vuoi dire?